Partecipata e intensa, ha registrato un grande successo la Masterclass tenuta da Luca Iurman il 7 maggio nella sala polifunzionale della Fondazione Santi Medici di Vitonto. La John Cage Music Academy chiude con ottimi risultati la seconda edizione del John Cage Masterfest, con un ospite d'eccezione. Siamo molto emozionati, diciamo che proseguiamo sulla stessa lunghezza d'onda portata avanti precedentemente. Questa volta abbiamo scelto volutamente un didatta del canto, un didatta che ha vissuto anche il talent show, ha vissuto la casa discografica, ha vissuto il tour con grandissimi artisti nel calibro di Laura Pausini, Eros Ramazzotti. Quindi ecco, chi più di lui potrebbe arricchire i nostri studenti, i cantanti, i didatti provenienti anche da fuori regione. Questa per noi è una grande soddisfazione, abbiamo studenti di canto dalla Basilicata, dal Gargano, da Lecce e siamo molto soddisfatti. È un format che porteremo avanti col tempo. L'idea è quella di dare un'opportunità in più alla nostra città, ai nostri studenti, dare la possibilità di incontrare artisti che vivono il palco tutti i giorni. Cantante, musicista e produttore discografico italiano, Juhlman è una delle figure di spicco nel panorama internazionale per il vocal coaching. Una carriera dedicata alla musica e al canto è conosciuto per aver ideato un innovativo metodo di insegnamento, vocal classes. È un percorso di studi fondato su solide basi teorico-scientifiche, diviso in livelli di difficoltà crescente, articolati in esercizi tecnici e interpretativi, basati su parametri indispensabili per essere dei cantanti. È proprio su questo che verteva la sua masterclass che si è rivelata essere un'occasione di crescita per gli artisti che hanno partecipato. È nata 30 anni fa, quindi oltre 30 anni fa, tramite l'esperimento che feci con Alex Barone all'inizio, quindi poi per 11 anni siamo andati avanti e ho trasformato il metodo finché poteva essere un metodo accessibile a tutti quelli che vogliono veramente studiare canto. Tecnicamente è molto avanzato ed è molto impegnativo per gli allievi, quindi di solito si dice che gli allievi cercano una scuola e io come scuola cerco gli allievi giusti che si impegnano a lavorare e a studiare nel modo corretto. È volto alla formazione internazionale, quindi c'è con un occhio veramente aperto al mondo esterno, quindi non al mondo relegato con l'Italia che abbiamo noi. Ci siamo chiusi in un momento storico dove praticamente la voce non viene considerata come dovrebbe essere. È uno strumento per eccellenza di comunicazione, ma per poter essere all'altezza del canto internazionale la tecnica è avanzata e noi siamo molto indietro in questo momento. Un cantante è un musicista, la voce è il suo strumento con cui può emozionare e fare arte a patto che ne abbia per Jürgen un'ottima padronanza e una salda conoscenza professionale. Allenare e fare crescere un artista oggi vuol dire ripristinare l'equilibrio tra attività e commercio, cultura e incoscienza, comunicazione ed emozione. Sono questi i principi e la base della sua scuola che assiede sia a Milano che a Terni. La formazione continua è la chiave che rende l'artista capace di superare ogni limite. In Italia però c'è ancora qualcosa da cambiare in quest'ambito. L'evoluzione che c'è stata fuori dall'Italia tantissima, qui siamo molto indietro a quello che dicevo perché siamo ancora ancorati a dei sistemi didattici che non riescono ad evolversi. Proprio perché c'è un'evoluzione che nell'uso della voce, nell'uso della tecnica, nell'uso dell'antirisonanza, invece qua si continua a lavorare sulle risonanze, si continua a lavorare in un sistema veramente non adatto a quello che è il canto di oggi fuori all'estero. E' molto impegnativo, devo dire la verità, cercare di farlo capire ai giovani d'oggi che tendono a volere tante cose velocemente. Siamo abituati in un mondo in questo momento dove tutto sembra fruibile, gestibile tramite internet ma non è così. Cioè spiegare che il tutorial non serve a nulla, che il tutorial è solo uno specchietto per le lodole ma non è una formazione reale è difficile far capire che per essere evoluti tecnicamente oggi ci vogliono almeno 4-5 anni di studi avanzato, è durissima. Cioè un ragazzo c'è l'idea di dire come 4-5 anni non lo accetta ecco normalmente. Il talento è il 10%, è la chiave di accesso al successo, lo dico sempre perché arrivo dalle scuole oltreoceano dove ti spiegano che il talento è la possibilità di entrare nella formazione, solo quello. Il resto è tanto, tanto, tanto studi e tanto impegno. Andrebbero messi allora in discussione i sistemi didattici e andrebbe anche scardinata l'idea che il talento possa bastare per avere successo nel mondo della musica.